Prima di iniziare vi ricordo che potete entrare nel mio server Discord per avere tutte le notifiche di tutte le live di tutti i video. Buona visione! Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Intanto vi ringrazio tantissimo per i 300 iscritti e un piccolo traguardo che mi fa molto piacere. Quest'oggi andrò a rifare un video che ho fatto molto tempo fa, ovvero andare a riscaricare e giocare nel bellissimo mondo di Kendal. Ho preso il suo come esempio perché mi sembrava quello più adatto e su cui già avevo avuto un'esperienza. Infatti riporto questo video perché alcune persone non sono riuscite e quindi ve lo andrò a spiegare in modo più dettagliato. Detto questo spostiamoci di là. Vi ricordo che vi lascio in descrizione sia questo video di Kendal sia il link direttamente per andare a scaricare il mondo. Quindi una volta sul video o andate direttamente nel link potete andare a scaricarlo. Saranno 2-3 giga, non mi ricordo quanto sono. Aspetterete che ve li scarica, ormai la connessione è quello che è, quindi ci vediamo tra poco. Vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, spesso siamo in live, soprattutto il venerdì e il sabato sera alle 20.30. Bene, una volta completato il download andiamo a trasferire questo file sul desktop. Subito dopo ci richiamo nella cartella .minecraft che se non sapete come si fa vi ricordo che basta andare nella barra di ricerca di Windows e digitare percentuale, appdata, percentuale. Io non riesco a scrivere. Vi trasporterà qui dentro e andate a cercare .minecraft che dovrebbe essere una delle prime. Io ne ho altre due qui sopra perché ho installato alcune mod, alcuni client e quindi ho alcune cartelle in più. Una volta arrivati qui scendete fino alla cartella saves che si troverà più o meno tra runtime e schematics. Entrate, prendete il mondo, lo inserite e attenzione un errore che fanno tanti è non estrarlo. Voi dovete per forza estrarlo perché se no Minecraft non riconosce la cartella del mondo. Quindi tasto destro, estrai file qui. File estratto, potete anche eliminare questa cartella. Chiudete pure anche esplora risorse. E se avevate aperto Minecraft in precedenza vi consiglio di chiuderlo. Vi ricordo che il mondo è da giocare in 1.19 quindi scegliete la versione 1.19. Intanto io ne approfitto per aggiungere mod, non ho mod da aggiungere. Invece si abbiamo queste due, perfetto. Una volta riaperto Minecraft tornate nel single player, andate a cercare il mondo e niente, potete giocarci. E niente, eccoci qua. Vi ricordo che se non avete un computer abbastanza potente, visto che la 1.19 è una versione molto pesante, di evitare di giocare con le shaders. O comunque utilizzare una mod come fosse Optifine o Sodium per utilizzare delle shaders in modo più leggero possibile. Niente, detto questo, divertitevi nel mondo che avete scaricato e basta. Noi ci vediamo presto. Vi ricordo che se avete domande non esitate a farmele nei commenti. Appena potrò vi risponderò oppure ci farò anche un video dedicato. Se avete tante domande e magari idee per nuovi video, ovviamente consigliatemele qui sotto nei commenti. Ciao! Ciao!